L'aspetto importante sulla salute di Antonino Mazzeo riguarda, proprio per far capire chi ci ascolta, quanti chili ha perso questa persona? Lui ad oggi ha perso 15 chili. E qual è il problema dunque, mi diceva, del carcere di Secondigliano? Allora, il carcere di Secondigliano in pratica gli ha risposto al giudice dicendo che questa non è struttura adatta alla sua patologia. Quindi loro non possono fare niente, gliel'hanno detto per iscritto che non lo possono curare per il tipo di patologia che ha il mio marito. Motivo in più per cui accogliere quella richiesta sul centro di Messina che invece è più. Loro hanno già la clinica neurologia adatta.